I risultati degli indici LEA di livelli di assistenza della rete ospedaliera regionale per l'Abruzzo un grande balzo in avanti, Assessore Paolucci. Il più alto, il migliore del Paese e che ovviamente sottolinea, essendo anche fonte terza quella del Ministero della Salute, che l'Abruzzo ha messo in campo una riforma valida, che ha incrementato la qualità della prevenzione oncologica, che ha dato risposte migliori sui tempodipendenti e quindi sulla rete di emergenza urgenza per gli ictus, i trauma o gli infarti. Che ha messo in campo una rete territoriale migliore, una risposta ospedaliera sui femori per gli anziani, piuttosto che sul percorso materno-infantile e la riduzione dei tagli alle donne con i parti cesarie, che è stata apprezzata. E sono risultati oggettivi di fonte terza, non strumentalizzabili, per i quali credo che possa esserci un plauso anche dall'opposizione. Una performance di 19 punti tra le regioni del centro-sud con la Basilicata, l'Abruzzo è l'unica regione adempiente. È il più alto balzo del paese, più 19 e siamo l'unica regione, tra virgolette, del centro-sud insieme alla Basilicata ad essere adempienti e la seconda tra quelle in piano di rientro appena dopo il Piemonte. Penso che sia un risultato migliore, che ci deve far dire siamo soddisfatti rispetto al percorso attuato, ma anche dire che bisogna fare ancora di più e ancora meglio, però si può dire oggi che tre anni hanno dato buoni esiti e buoni risultati. Voi state lavorando anche sul potenziamento della rete urgenza e emergenza per quanto riguarda le aree interne? Sì, abbiamo installato diverse postazioni nelle aree interne, davvero tante, perché poi costa anche molto. Vuol dire che la regione, nonostante le ristrettezze economiche, è investito sulle aree interne. Le postazioni di 118 sono dei piccoli pronti soccorso ambulanti, ovvero mobili, che danno nel caso di specie sulla rete di emergenza urgenza una stabilizzazione in loco e aver ridotto la vicinanza del 118 di questi pronti soccorso che si muovono al cittadino ha certamente garantito molto e di più le aree interne rispetto alle possibilità di sopravvivenza in ragione delle urgenze che possono verificarsi.